bene raga ve la faccio vedere molto veloce allora soggiorno bello ampio doppio porta finestra con il balcone poi andiamo di là colonna che divide cucina ma roba che bella cucina poi camera da letto lì in fondo ci sono io e poi abbiamo il bagno porca misera la luce bagno è disponibile da subito